ciao sono gianluca bocci e si questo sfondo mi sa che l'avete già visto si nel video dedicato alla zoemini che vi rimando qui sopra in scheda perché quando hanno fatto questa presentazione il primo aprile mi raccomando seguitemi su instagram come gianluca.bocci avete visto le stories non ci hanno fatto un piaccio d'aprile ma hanno presentato un mare di novità e a due di queste appunto la zoemini ho dedicato un video ma anche a lei la canon eos 250d ho dovuto aspettare qualche giorno perché eravamo sotto embargo quindi sotto silenzio stampa detto questo lei è la naturale evoluzione della 200d una reflex che hanno venduto letteralmente a vagonate in canon ed è fantastica perché sia una reflex ma talmente compatta e leggera che potrebbe essere tranquillamente una mirrorless e quindi penso che sarete curiosi andiamo a vederla più da vicino ma questa fotocamera dove eccola sì questo giochino con le mani far vedere che effettivamente è davvero compatta e fidatevi in mano rimane molto leggera nonostante si impugna molto bene la sagomatura per la mano destra effettivamente è piacevole ci si trova con una saldissima presa poi per dirla appunto la marchigiana la morte sua è lui questo 24 millimetri pancake diventa un po lunghino siamo sui 44 45 millimetri però guardate ragazzi c'è la sporgenza del flash interato perché sì c'è anche il flash interato è tutto dentro ricordiamo comunque 24 megapixel e guardate un po sì c'è ancora il buon vecchio classico ma non per questo da buttare via specchio reflex diciamo 24 megapixel è un digic 8 ha la messa a fuoco dual pixel af che è molto interessante poi nel montaggio vi mostro qualche foto fatta con lei allora ha meno 4 e v come sensibilità per autofocus copre l'ottanta per l'88 per cento dell'area orizzontale il 100 per cento dell'area verticale e nel mirino comunque possiamo gestire nove punti mirino che è piccolino ma anche per me che porto gli occhiali va davvero molto bene sensibilità dai 100 ai 51.200 iso quindi insomma possiamo divertirci per gli amanti delle raffiche abbiamo la bellezza di 5 frame per secondo invece per gli amanti di video abbiamo 4k 30p full hd 60p hd 120p quindi insomma possiamo divertirci anche lì e subito vi dico cosa che io adoro sì qui fianco a fianco abbiamo l'ingresso per il telecomando e l'ingresso per il microfono quindi se siamo dei vlogger possiamo appunto orientarla in avanti appunto mi dovreste rivedere qui mi metto anche a fuoco ecco mi vedete che la messa a fuoco funziona molto bene in video giustamente è rilevamento di contrasto ma funziona molto bene touchscreen pienamente orientabile in più abbiamo anche il wifi e il bluetooth il tutto ve lo dico come dato generico siamo su 649 euro ma vi dicevo su un corpo così piccolo appunto flash vero mirino display orientabile ingresso microfono tanti tasti la levetta accensione che è fatta molto bene provo anche leggermente a portarla più in primo piano vedete spenta muovete a foto muovete a video cioè è davvero fantastico una ghiera subito a portata di indice la classica rotellina pro italia frammi come lavoro sempre io e via dicendo e sul retro lo stesso questo è il caso che allarco un po se no non vedete nulla però 1 2 3 4 5 6 7 quindi davvero una dotazione di tutto rispetto e comunque con il touch screen qualsiasi variazione rimane sempre semplice e veloce come dire penso che sia arrivato in questa rapidissima carrellata il momento di andare a vedere insomma le pacelline bene rieccoci qui per queste conclusioni su di lei allora vediamo rapidissimamente queste prime impressioni cosa mi hanno portato a dire cos'è che mi piace anzitutto le dimensioni è davvero piccola specialmente ho questo 24 mm pancake è davvero un oggetto da portare sempre sempre con noi il peso lo stesso eravamo a 452 grammi devo leggere che sono tantissimi dati è davvero un record per una reflex e il fatto poi si mi piace è una reflex tutti mirrorless tutti mi dicono Gianluca mi consigli una mirrorless ma perché non continuare a utilizzare le reflex è una tecnologia vecchia con tutti i suoi pro e contro ma sicuramente una tecnologia che funziona bene quindi è bello avere ancora una reflex ma comunque con anche il mitico display orientabile una cosa che ovviamente io adoro e tra l'altro siccome appunto uno ci si fa i selfie ci si fa anche V-log se è V-log il fatto di avere l'ingresso microfonico è davvero una cosa fantastica quindi a me piaceva la 200D l'ho consigliata a tantissimi di voi e non posso fare altro che dire questa va altrettanto bene e cos'è che non mi piace? Ragazzi in questa rapidissima presa di contatto non ho assolutamente nulla da segnalare ditemi se anche voi avete iniziato a fotografare con la 200D perché sì secondo me è una macchina che per iniziare è assolutamente l'ideale ciao a tutti e al prossimo video